Gentili telespettatori, buona giornata. Intervista al leader della Lega, Matteo Salvini, proprio oggi 30 agosto del 2021. E dice che l'ultima cosa utile da fare è obbligare, costringere o multare la gente, soprattutto in questo caso del vaccino. Posso dire che nessun paese europeo occidentale ha il vaccino obbligatorio. Non capisco perché l'Italia debba fare la differenza, dice Salvini alla festa della Lega di Pinzolo. Il governo va avanti un anno e mezzo. Lo chiedo a voi. La Lega con i suoi controllori è più utile dentro o fuori? Sicuramente la vita per me sarebbe più comoda fuori. La vita dentro è più scomoda, perché nell'alleanza di governo c'è liberi e uguali. Hanno lo 0,18%, ma sono al governo. PD, Movimento 5 Stelle, ma io credo che la Lega sia più utile dentro al governo. E sul centro-destra dice, io lavoro per l'unità e porto pazienza. Sono un pescatore e porto pazienza. L'unità del centro-destra va oltre qualche intervista infelice. Io lavoro per questo. Più uniti siamo più forti. Questo ho detto a Berlusconi. Mettiamoci insieme, altrimenti le riforme non le facciamo. Stiamo tutti insieme, anche se ogni tanto qualcuno fa il fenomeno. Per me vince la squadra con il singolo. Allora, interviste infelici. Beh, non credo che il centro-destra, caro Salvini, abbia dei problemi per delle interviste infelici. Le parole poi volano. Uno può sempre dire, io non l'ho mai detto a quel quotidiano lì. Se lo sono inventato, figurati. Però non sono le interviste infelici il problema nel centro-destra. Il problema nel centro-destra sono i fatti. Come aver portato via il posto in Rai che aspettava Fratelli d'Italia. In accordo Salvini-Berlusconi hanno arraffato il posto. Il caso che si è trascinato per mesi, quello del Copassir, incredibile. Poi alla fine hanno lasciato il posto a Fratelli d'Italia perché non potevano fare altrimenti. E poi la federazione, la fusione. Berlusconi che dice dai Meloni fonditi con noi col chiaro intento di far sparire Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni dalla scena politica. Un tentativo goffo, ingenuo. Oppure Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia propongono delle soluzioni, delle mozioni di sfiducia. E Berlusconi e Salvini votano il contrario. O fanno finta di non vedere o propongono loro una mozione di sfiducia o qualcosa esattamente uguale a quello che ha prodotto Fratelli d'Italia. Ecco, questo volevo dirti Salvini. Non sono le interviste infelici. Sono i fatti infelici. Tu dici, sono un pescatore e porto pazienza. Ma guarda che a portare pazienza è Giorgia Meloni. Questo lo dico a te, a Berlusconi. Quella donna ha una grande pazienza con voi due. Una grandissima pazienza. Una pazienza quasi telefonata, perché Giorgia Meloni sa perfettamente, come lo sai anche tu Salvini, che uniti si può governare il paese. Uniti proprio per avere la maggioranza dei voti. Non per altro, perché se uno di questi tre partiti avesse il 45%, non gliene fregherebbe niente dell'altro. Ma è un'alleanza obbligata. È un po' come quando uno va a scuola e il compagno di banco è quello. Per forza non lo puoi cambiare. O uno dice, questi sono i genitori. Non è che li posso cambiare. Questo è il fratello, questa è la sorella che ho. Non li posso cambiare. Anche i compagni del lavoro non li puoi cambiare se non cambi lavoro. Pertanto molto spesso le persone di cui ci circondiamo molto spesso sono imposte. E quelli sono gli amici del mio fidanzato, della mia fidanzata. Devo sopportarli. Ecco, spesso quelli di cui ci circondiamo sono imposti dalle circostanze. Anche in questo caso la coalizione di centrodestra è imposta. E Berlusconi, Salvini e Meloni sono lì. Non si può cambiarli, sceglierli. Dice, non mi piace, non lo sopporto, non la sopporto. E non ci si può fare niente. Naturalmente tu Salvini dice che sei un pescatore e porti pazienza. Ma guarda che la pazienza negli ultimi cinque mesi la sta realmente portando Giorgia Meloni. Su questo non ci sono dubbi. Stiamo tutti insieme anche se ogni tanto qualcuno fa il fenomeno. A chi ti riferisci? Siete in tre. Berlusconi, Salvini e Meloni. Se Salvini dice se qualcuno fa il fenomeno, significa che o Berlusconi o Giorgia Meloni fanno i fenomeni. Ma realmente, ve lo dico sinceramente, non mi sembra di aver visto Giorgia Meloni che fa il fenomeno. Non mi è sembrato proprio. Giorgia Meloni è una persona pacata, parla quando è sicura di argomenti che conosce, che ha studiato. Non ho visto realmente Giorgia Meloni fare il fenomeno. e non ho visto neanche, come dice Matteo Salvini, qualche intervista infelice. Non le ho viste, mi spiace. Naturalmente, dalla parte di Salvini e Berlusconi, che ne hanno combinate un sacco a Giorgia Meloni, devono dire delle cose a loro giustificazione, perché gli smacchi che sono stati fatti sono ben grandi. Sono tanti e ben grandi e ripetuti. E su questo aspetto Salvini dice io porto pazienza, sono un pescatore, ci sono state interviste infelici, qualcuno fa il fenomeno. Le ha dette, comunque. Dice poi Salvini, il centrodestra vince nei comuni, in Italia, in Europa, nei fatti, insieme stiamo raccogliendo le firme per il referendum sulla giustizia, sul blocco delle cartelle, flag tax e taglio delle tasse, lavoriamo insieme su riforma della giustizia e della pubblica amministrazione, lavoriamo insieme, mentre PD e 5 Stelle litigano su tutto e si occupano di ussoli. PD e 5 Stelle io realmente non li vedo litigare su tutto, cioè non li vedo proprio neanche litigare, perché non hanno poi tutti questi argomenti sui quali litigare. Chi vuole dividere il centrodestra sbaglia. Governeremo insieme dal 2023. Guarda Salvini che non c'è nessuno in questo momento che vuole dividere il centrodestra, ma è il centrodestra stesso che sta combinando quello che abbiamo parlato prima. Pertanto questo è. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie. Grazie.